Capitolo 9 Oktoberfest Legge Ornella Schio Grazie alle auto aumentò il raggio d'azione del gruppo e cominciamo a permetterci anche escursioni invernali. Per un periodo andammo a Monaco per l'Octoberfest. Si partiva di venerdì, dormivamo in tende accampate casualmente e stavamo via un paio di notti. Lo scopo non era ubriacarci, ma godere della confusione di quella festa assurda. Si entrava nei capannoni alle 5 del pomeriggio e si usciva alle 10 di sera, più vecchi di una settimana. Anche Ivano e Biggi partecipavano a queste escursioni. Tutti tornavamo alla follia e alla spensieratezza. Agivamo senza schemi e alla ricerca dell'eccesso. Ivano si ritrovava nel suo terreno e poteva esibire il suo personaggio bohemian. Con noi anche Dario, prima che diventasse perotto, spia russa della stazione di Monte Calvo nello spettacolo che stavamo preparando. Di origini svizzere lo chiamavamo l'italiano dei quattro cantoni. Confidavamo nel suo ottimo tedesco per poter abordare le ragazze, ma usammo le sue doti linguistiche in un'unica occasione. Incontrammo quattro belle ragazze, rigorosamente bionde. Con la scusa di farsi fare una foto, i selfie all'epoca li facevamo con le reflex, le fermammo e a gesti riuscimmo a intenderci. Dario, ringraziale, dai, che facciamo bella figura. Volevamo stupirle, mettendole al loro agio, eravamo certi che sarebbero rimasti con noi. Dario si avvicinò a loro e disse grazie. Le ragazze non capirono e se ne andarono. Anche Dario scappò, inseguito da tutti noi. Una volta arrivai a Monaco con la mia Diane e trovai da parcheggiare in un angolo libero. Dopo un paio d'ore, ripassando in zona, scoprì un biglietto giallo sul parabrezza. Lo presi e lo misi in tasca. Quando chiesi a Dario di leggerlo, lui mi disse di non preoccuparmi. La Diane venne portata via. Superato l'impulso di strozzarlo, chiesi chiarimenti a lui e lui mi suggerì di cercare un poliziotto. Cominciai a guardarmi in giro fino a che mi indicò un poliziotto sulla moto. I poliziotti nostrani in moto giravano con la moto Guzzi, sacche di pelle nera attaccate dietro, un caschetto bianco in testa ed estate la divisa a maniche corte, azzurra, con i pantaloni, con la riga rossa. Cercavo qualcosa del genere e invece i poliziotti tedeschi guidavano BMW, verdi e bianche, e carenati da strada, in divisa verde e bianca in pelle, guanti verdi e casco verde e bianco integrale. Dei veri sboroni. Mi avvicinai a lui con il foglio in mano. Quando il polizzato mi vide, sollevò il casco integrale sopra la testa. «Italiano?» domandò. Poi rise senza leggere il foglio giallo che tenevo in mano. E spiegò ridacchiando a me e a Dario, il quale ogni tanto mi guardava sorridendomi, che la macchina era stata rimossa e portata in un deposito. Costrinssi Dario a venire con me, ritrovammo la macchina, e anche un nutrito gruppo di italiani i quali pregavano Dio, ma in vari modi poco ortodossi. Alle dieci di sera ci ridiedero la Diane, ma non prima che pagassimo le duecentomila lire di multa. Non avevo con me tutti quei soldi, ma Dario sì. Una volta tornati a casa, ci ritrovammo una sera e si decise di fare una raccolta volontaria di soldi per aiutarmi. Tutti contribuirono, anche Biggie, che contribuì con cento lire e due bottoni. Accadevano anche risse davanti ai barracconi dell'Octoberfest. L'alcol toglie le inibizioni e anche il buonsenso. Assistemmo a una feroce elite tra due americani, un nero ed un bianco. Il nero aveva steso il bianco a terra e lo stava infarcendo di pugni che sembravano incudini. Lucio, il più sensibile tra noi, si intromise cercando, con il suo inglese accettabile, di farli ragionare e di separarli. Entrambi si fermarono un attimo, stupiti, e lo guardarono con grande curiosità. «Ragazzi, dai, venite ad aiutarmi, che li separiamo!» «Può darsi che abbia detto una cosa del genere, ma noi non sentimmo bene le sue parole, perché eravamo già troppo lontani. Lo lasciamo lì, coi suoi nuovi amici, ma poi lo ritrovamo in colume, leggermente deluso e molto arrabbiato. Ci raccontò che un amico del bianco si avvicinò a lui, lo prese per le spalle, lo alzò e lo portò lontano da lì. Quando venne posato a terra, tutte le sue velleità di pacificatore erano scomparsi. In alcuni capannoni suonavano musica tirolese, con gli orchestrali vestiti con i costumi tipici. I primi cinque minuti erano piacevoli, poi dovevi bere qualcosa per sopportarli. Le birre, solo da litro e i boccali che sembravano di piombo, venivano servite da cameriere in costumi tradizionali. Vichinghe dalle braccia grosse come le nostre gambe. Le birre costavano, quindi ne comperavi una, poi continuavi a fare brindisi e le musinando dagli altri boccali. Noi preferivamo il tendone della Levenbroi, che era tra i più grandi, per poi passare all'Ippodrome, dove trovavi musica varia, anche se a quel punto non importava più molto la musica. Si tentavano approcci in qualche modo, anche se era una bolgia infernale. Tony abbordò due italiane ed esordì dicendo «Avete un po' di scotch?» Per farne cosa, risposero sorridenti le due, per attaccare il discorso. Le due ragazze fuggirono, e anch'io, lasciando Tony perso nella mischia. I bagni maschili erano stati disegnati da Dante in persona dopo aver varcato la porta dell'inferno. Visto la quantità di birra bevuta, è ovvio che la massima produzione riguardasse i liquidi, e tutti i maschi si recavano al pissuar, l'unica parola tedesca compresa da tutti senza difficoltà. Per permettere alla moltitudine di pisciare senza creare ingorghi, avevano inventato una specie di lunga grondaia inclinata dove svuotare la vescica. Se ti trovavi verso lo scarico della grondaia, sotto di te passava quello che in origine era un rivolo, poi un torrentello ed infine un lago stagnante dal caratteristico aroma. Qualche simpaticone del nostro gruppo decise di mettere un po' di allegria nel bagno maschile, cantando la canzoncina goliardica «Leon, leon, leon, chi non salta è un coion». Non che i tedeschi ubriachi scapissero la strofa, ma ugualmente e inaspettatamente tutti saltarono con il pistolo in mano, annaffiandosi a vicenda e schizzando di piscio tutto il bagno, ora definitivamente un cesso. Un trofeo ambito dell'Octoberfest erano i boccali con il marchio della Leuvenbroi. Dentro i capannoni di questi boccali potevi farne ciò che volevi, Tony, dopo il fallito abbordaggio, fu trovato che giocava con un gruppo di tedeschi a lanciare boccali contro una piramide, anch'essa di boccali. Tentammo più volte di portarmi a casa qualcuno per ricordo. Una volta Lucio uscì con un boccale in mano in mezzo a due giganteschi buttafuori. Pareva quasi avercela fatta quando un fischio lo fermò. Con la faccia di un bambino che ha fatto una marachella, consegnò il magloppo senza protestare. I due giganti gli sorrigero e lo lasciarono andare. Anche Lucio sorrise per un po'. Legati alla cintola, nascondeva altri due boccali. Ma poi i due buttafuori lo rincorsero fino a fermarlo. E Lucio smise di ridere. Un anno però successe l'incredibile. Dopo l'esperienza dei salti nel Pissuare, cercammo dei posti appartati. Dietro il capannone della Leuvenbroi c'era un angolo in ombre non frequentato e mentre eravamo lì a passare il tempo qualcuno notò che c'era un cancelletto aperto e oltre il cancelletto delle casse con dentro degli scatoloni. Aperto uno scatolone scoprimmo che conteneva sei boccali nuovi. Valutammo se prenderli e scappare, ma Faglio ci stupì. Ricordatevi che sono tedeschi. Loro cercano bicchieri, non scatoloni. Ci caricammo uno scatolone a testa. Eravamo in otto. Passammo davanti ai due gorilla che ci salutarono scambiandoci per dei lavoratori del capannone e in una botta sola ci portammo via 48 bicchieri. Dormivamo in tende nella zona del villaggio olimpico, anche se era proibito. Ci capitò di venire svegliati dalla polizia che ci piantava la macchina con gli abbaglianti davanti alla tenda e continuava a suonare il clacson. Così dovevamo uscire in mutande, prendere la tenda, uno per angolo, e cominciare a camminare finché la polizia abbassava i fari e ci lasciava appoggiare la tenda e dormire. Una mattina arrivarono i testimoni di Geova e li mandammo dentro da Lucio perché era il più bravo a parlare in inglese. Ci era apparsa una buona idea. Anche l'idea di fare colazione a Marine Place fu notevole. Così, dopo essere stati ora in una bolgia a bere birra, aver camminato per metà della notte in mutande con una tenda in mano, essere stati svegliati da un gruppo di testimoni di Geova che volevano redimerci, ci trovammo a fare colazione sotto il più grande carillon a campane della Germania, il quale iniziò il concerto non appena ci sedemmo. Nei capannoni, a fare più casino, erano gli italiani e gli spagnoli, come sempre. I tedeschi maschi si limitavano a bere birra fino a crollare. Alcuni indossavano un cappello che reggeva due boccali uniti da una cannuccia dalla quale bevevano, a fianco dei boccali, un paio di mani di gomma piuma collegati con un cordino. Ti guardavano confusi e seri, stiravano il cordino al massimo dell'euforia, sbattendo le due manine e succhiavano birra fino allo svenimento. Anche le ragazze bevevano fino ad addormentarsi sopra i tavoli e fino a perdere ogni inibizione. Uno dei divertimenti preferiti di Faio consisteva nel colpire con forza i berretti a visiera degli uomini della security per farli volare in mezzo alla gente. Questo senza farsi scorgere, ovviamente. La security agiva per controllare gli eccessi. Se qualcuno innescava un tentativo di rissa, la security spuntava dal nulla e in poco tempo sedava la rissa e anche i rissosi. Capitava spesso di vedere che portavano fuori da qualche parte i più agitati. Cosa ne facessero poi, rimane un mistero ancora da svelare. Colpire i cappelli di questi armigeri era veramente un gesto di coraggio. Le loro divise avevano una sola S. ma era sufficiente. Capitava che l'eccesso di birra facesse sparire i freni inibitori. Ad una bella ragazza successe e prese di mira un bel ragazzo siciliano seduto a un tavolo. Lei continuava ad avvicinarsi a lui, continuava a baciarlo e a mordicchiargli le labbra, a volte leccandole. «Non faccio niente! Non la tocco! Non la guardo! Io non centro!» continuava a ripetere il ragazzo siciliano. Lo diceva rivolgendosi al grande fidanzato tedesco che tratteneva per un braccio la ragazza ubriaca e guardava con sguardo assassino, misto a sconcerto, tutto il piccolo pubblico che si era fermato ad assistere la scena. A scanso di equivoci, il ragazzo siciliano aveva le mani sollevate in aria e lo sguardo terrorizzato. Uno di noi una volta tentò un abbordaggio che quasi quasi riuscì. Vide una ragazza ballare da sola e ballando e scherzando riuscì ad avvicinarsi e a scambiare due parole. Poi un braccio, che pareva un tronco di pino, si pose tra lui e la ragazza. Attaccato al braccio, c'era il fratello maggiore di Attila, con un giubbetto in pelle nero senza maniche e aperto sul petto. Questo chiaro messaggio bastò a interrompere le infusioni e anche a provocare una paralisi dell'apparato riproduttivo. A sera, quando uscimmo dai capannoni, la ragazza passò assieme a un gruppo, fra cui il fratello di Attila. Il nostro amico la salutò inviandole un bacio svolazzante. Con sorpresa lei lasciò il gruppo, andò da lui e lo baciò. Poi tornò dal suo amicone tedesco, lasciandoci tutti sbalorditi. Il tedesco afferrò la ragazza per un braccio, noi afferrammo il nostro amico e con la rapidità suggerita dalla situazione interrompemmo l'idilia e anche il rischio di qualcos'altro. E intanto, a nostra insaputa, il tempo passava e ordiva alle nostre spalle un destino che avrebbe coinvolto ognuno di noi, costringendoci nei ruoli sociali che incautamente ci stavamo preparando. iniziavano gli amori, gli impegni lavorativi, le normali vicende quotidiane. Incuranti di questo, ma vagamente consapevoli di un cambiamento che si approssimava, avviamo un nuovo progetto.